Lei è in quella stanza? Siamo qui! Ci aiuti! Siamo qua dentro! Ma quante ce ne sono, Dennis? No, non entrare lì, non entrare lì! Non vi preoccupate. Ci parlo io. Di solito mi ascolta. Non sta bene. Lui sa perché siete qui. Non gli è permesso toccarvi. Sa anche questo. No. 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 Grazie a tutti